Allora dobbiamo parlare un minimo della storia, anche se è vero il tempo è breve, la storia della Maserati. È cominciato con un nome indimenticabile, Alfieri Maserati, che insieme ai suoi fratelli, ne aveva moltissime, ma due di loro, Ernesto mi sembra e l'altro, ha fondato con cinque persone soltanto questa fabbrica, diciamo. Sì, era nel 1914, era il fine anno, il dicembre del 1914, dove vengono appunto i fratelli Maserati, cui i capostipiti erano Alfieri Maserati, fondono la Maserati ed erano in via Milia Levante a Bologna e da quel momento è nato questo grande successo. Lui era pilota? Lui era anche pilota, infatti la Maserati comincia con il logo del Tridente, che è stato fatto e disegnato da Mario, che era il pittore, quindi non era il fratello che era entrato nel business, ma che ha dato un grosso segnale, perché ci ha lasciato il Tridente. Il Tridente è del Nettuno? Il Tridente deriva dal Nettuno, quindi Mario, che era il pittore, l'ha ripreso e da lì nato il logo. Questo logo è stato montato sulla T26 nel 1926, dove vinse la Targa Floria con Alfieri Maserati. E da lì è partita tutta l'epopea del nostro brand. Lei è ingegnere gestionale, è arrivato appunto al Managing Director Europa e si fa sempre questa domanda alle donne che arrivano in cima alla carriera. Come concilia, adesso lo chiedo a un uomo, come concilia la famiglia e il successo nel lavoro? Lei è sposato e ha due bambini, mi sembra, vero? Sì, sposato con due figli, che sono anche piccoli, di 6-4 anni. Ma il tempo di averli l'ha avuto? Il tempo li ho avuti, ma 6-4 anni fa, ultimamente siamo meno tempo. No, si cerca giustamente di dare qualità nel tempo, come nel lavoro. Quindi devi avere una persona al tuo fianco che capisca assolutamente quali sono le tue esigenze. Mia moglie lavora, lavora anche per i cugini di Ferrari, quindi questo permette anche di capire quali sono le tempistiche, gli stress all'interno dell'attività lavorativa, però è un grande punto di riferimento per me, quindi si riesce comunque a combinare il tutto. Si dice infatti che dietro un grande uomo c'è una grande donna, ma anche dietro una grande donna c'è un grande uomo adesso, quindi siamo arrivati, ce lo diciamo noi, ma è anche vero. E allora la Maserati che cosa ha rappresentato quando ha cominciato a lavorare nel mondo automobilistico? Era un goal da raggiungere? Sì, io sono entrato in Maserati nel 2006, quindi ho festeggiato, posso dirlo, 10 anni di Maserati e allora si produceva unicamente la Quattroporte e la Grand Sport. Io ero nel gruppo di FCA, la Fiat, quindi dal 2001 e quando mi sono stati prospettati il piano di sviluppo di Maserati mi aveva affascinato, prima perché avevo un brand con una grande storia e vedevo che era stato messo un piano di sviluppo prodotto molto importante. E se dopo 10 anni sono qui vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto e sono molto felice, ti senti come la tua azienda e quindi questo sicuramente dà dei grandi risultati. Ed è questo il segreto del vero successo, cioè quando ci si mette entusiasmo la verità è che poi paga e i fatti lo dimostrano, non sono le opinioni o le parole. Allora molte grazie ingegnere e arrivederci a presto. Grazie a lei, grazie a voi tutti.